Mi presento, sono il Divino, qualità di divinità di questo canale e ti invito a passare da Instagram per ricevere i contenuti a me salvo. Inoltre, premi la campanella per ricevere ogni giorno i film. Buona visione. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo trentesimo episodio della Soulink Pokémon Platino Lega Pokémon. Luke, cos'hai da dire a riguardo? Ragazzi, stiamo incredibilmente forti con un team completo davanti alla Lega Pokémon. Lo avreste mai detto, Luke, quanto mi piace per questa Lega Pokémon che inizierà su questo canale e terminerà con l'ultimo episodio su quello di Luke. Quanti like, cazzo? Quanti? Ragazzi, proviamo, visto che siamo super 4, 400 mi piace. Dai, 400 sarebbe una cifra più che... Sarà tutto epico ragazzi, abbiamo fatto scorto di strumenti, abbiamo allenato i Pokémon, questi sono i risultati. Alcuni li abbiamo tenuti più bassi perché sono scarsi, altri invece li abbiamo tenuti, li abbiamo portati un po' più in alto. Luke, io scrosto dalla porta sto scemo e direi di andare. Scrosto, per spestacolo, rai. Levati, levati. Non potevo desiderare il termine migliore per cominciare questa Lega Pokémon, raga, dai, andiamo. Sono dentro. Quarta della Soulink. Sono dentro. Quarta Lega della Soulink. Quarta Lega della Soulink. Anch'io non possiamo più uscire. Ormai siamo dentro, gioco. Ah, no. Quindi, niente. Allora, noi abbiamo controllato i livelli, Luke. Abbiamo controllato i livelli e stiamo parlando di Pokémon attorno al 70 verso il campione, probabilmente, ragazzi. Cristiano, oddio, Cristiano Ronaldo, cominciamo male, cominciamo male. Camera, livello 55, ok, perfetto. Per ora ci siamo. Togepi. Togepi, signore, signore. Oh, cazzo, ok, perfetto. Che poi ciò, che poi ciò, il livello è il 55. Per ora sì, per ora sì. Allora, io ho subito, ho subito rischiato, ho appena entrato, perché un camerato mi ha fatto onda calda stab su Ninjas, che ha retto. Che ha retto. Ninja, signori, è il top, è il top in questa sfera, possiamo dire. Ha retto. Incredibile. No, spazzo. Tentacool. Da me è arrivata il naso, cazzo, livello 59, nasona. Livello 59. Anche da me è tentato, è subito alzato, proprio di colpa, avete visto. Non ci vuole niente, ha sciottato. Via, a casa. Allora. Oh, ti interna che tu, grande Grace. Luke Grace, che è resuscitata, ha cominciato a fare sfracelli fin da subito. Ma non è, ma non è un aborto, cioè, era abbastanza più scarso. Eh sì, però, ha combattuto bene, cioè, questo super 4 qua è un aborto con i piedi. Cioè, guarda che roba, è scarsissimo. E lecce, cioè, da me c'è l'Ectod, Sheldr, Tentacool. Ho stravinto, ho stravinto. Eh, aspetta, io ho però un po' a peor di questo Electod, perché, mmh, c'è uno sguardo un po'. C'è uno sguardo un po' inquietante. Non è, diciamo che non ispira fiducia. Eh no, mi guarda un po' strano, io non volevi che si facesse esplodere a questa cosa. No, dai, era atomizzato. L'ha detta, l'ho detta. Gio, anche, anche l'evoluzione devono essere random. Beh, pure, pure Makuita decide di fare di testa sua. Luke, io proseguo nel mentre. Eh, da me l'ha fatto appena bu... Oddio, bu, l'ho fatto... Calmati, zì. Oh. Zio, mi sta rando, mi sta rando. Oh, no, dai, non adesso. Tra l'altro, posso dire che la struttura di questa Lega, ragazzi, è una delle migliori di sempre. Posso dirlo? Cioè, mi ha concesso? Qua c'è... È molto migliorata rispetto a Diamante e Perle. Molto migliorata. Eh sì, delle rupi che manco Mufasa. Sei una lezione adorabile, tosto allo stesso tempo. Chiedo, venia per il paragone e per il crossover. Ok. No, ci piace questo crossover. Allora, Terry si chiama Mark, evidentemente dal sesso un po' confuso, ragazzi. Però va bene così. Attenzione. Parte la sfida. Ho vinto, Giò, sì. Ho vinto contro Aaron, Aaron Boss. Zio, sti Super 4 qua mi stanno facendo piangere le vene, cioè, nel senso. Giò, Giò, aspetta che poi andiamo tipo da Luciano al Vulcano e ci fanno il culo. Eh, sì, però. Sicuramente. Tile, zio, Tile. Salvaguardia di Tile, ma perché? Ma perché? Trico, ma di cosa stiamo parlando? Giustamente è nebole, quindi fa salvaguardia per... Eh, per pararsi erga il culo, certo, ovvio. Sì, effettivamente sembra la rupa di Mufasa. Beh, bello, effettivamente c'hai ragione. Comunque io sto pigliando tanto per il culo sto Trico, ma sta uccidendo Drags, cioè, non vorrei dire. Cioè, Giò, io c'ho la lega dei calciatori. Cioè, Robby, Robby Manpersi. Eh, io, io, uh, Golem. Bello, bello. Barboccia. Ma che cos'è? Che schifo. Polygon 2. Ragazzi, continuiamo con la creme della creme. Mamma mia, che schifo. Ok, perfetto. DELLY BIRD, ma dai! Giò. Eh. Ha fatto, ha fatto divinazione questo Polygon 2. Secondo me, prima o poi, un'apparizione ce la fa, eh. Ce la fa, ce la fa. Io... Secondo me sì. Raga, noi abbiamo, io e Luca abbiamo ipotizzato lo scenario in cui il divino ci appare col campione. In cui questa Soulink così tormentata si svela un piano finale del divino. Tutto di... Cioè, proprio abbiamo fatto i giri metà con la... Sì, ma sto DELLY BIRD c'ha la linea Maginò a difenderlo. DAI! Sì! Intanto ho un sotteggio, ma questo qua è al 62. Eh, te l'ho detto io, Luca, che la situazione è un po' problematica. Cioè, eravamo lì col primo in uno tranquillo, al 55, gli spettaciamo tutti, li apriamo come... È il momento di Vladimir, che sei beccato uno spruccio romano e ignorante. Tuono pugno, vediamo se mando giù Drif Blim. Se lo mando giù, raga, ridò. Armaldo, zio, questo chiamato, però, eh. Zio Vladimir è troppo forte, ho vinto, no, sono troppo... Cioè, Vladimir è di un altro universo, raga. Oltre a governare la Russia, però si vede, vede, il parese, cioè, è troppo forte. Molto adesso, il governatore supremo della Russia. È troppo forte, va, cioè, non c'è storia, ragazzi, non c'è storia. Non c'è storia, vabbè. No history, ok. Ok, Luke, io proseguo, sono già battuto la seconda, mi sento potente. Sono in un posto di blocco, ho chiamato Armaldo, questo posto di blocco. Chiamato, io ho capito, ho chiamato Armadio, credo tu abbia detto Armaldo. Armaldo. Ok, perfetto, ho capito, ho capito Armadio, ho detto, mi fa piacere che comunque l'IKEA sia così disponibile a farti delle partnership, però tranquillo, cioè, nel senso. Sì, sì, no, no, ma infatti stiamo collaborando, infatti la Souding, ragazzi. Ah, ma Vulcano è quello strafatto di coca, raga, che non sta mai femo, Scarlet, perfetto. Strafatto di coca. Vabbè, è vero, minchia, non sta mai fermo sto stupido. Schiff, ok, perfetto, vediamo chi mi manda in campo. E' Pini. Ma tu, Luke, ma tu sei a Terrio o Vulcano? Sono ancora a Terrio, Gio, io sono un superccato dietro di te ancora. M'ho fatto flash, vedi me. Ma io non posso andare avanti così, Luke, ma sono scarsissimi. Beh, ecco, però, ve ne hanno fatto. No, Gio, Gio, io ti dico solamente, ti faccio un appello, aspetta perché ce ne mancano due. Va, Surskid, Surskid, ma cos'è? In ogni caso ho vinto anch'io, ho vinto anch'io contro Terry, quindi mi appresto a raggiungerti, Gio, forse, forse. Surskid con solo all'agio, no! John Frog! Ciao, John Frog. No, ok, ha retto, ha retto, no, ma mi sono spaventato tantissimo. Che bello sono le fiamme di Vulcano, c'è la sostanza di Vulcano è fantastico. È tutto, è tutto bello in sta Lega, raga, non ce n'è. DTG, probabilmente, qual è la vostra Lega Pokémon preferita a livello di struttura? Cioè, Luke, Surskid, e Pini Surskid Paras. Che bello, mamma mia che figata sta schermata. Vai. No, è tornato! È tornato, è lui, è combi, ma... È combi maschio, raga, è combi maschio. Ragazzi, un bel linchino per il miglior Pokémon di sempre. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Resistito a dieci minuti abbondanti, forse. Gio, è morto con un brutto colpo di Gators, che l'ha castigato come... Ma anche forse Harkas, pazzesco. No, è Luke, c'è... Inquietante sto Super 4, tutti di merda, a parte Rotom, inquietante. Rotom è normale, ovviamente come normale. Sì, sì, c'è Vladimir che ha fatto una strage, manco fossimo nella Rivoluzione Bola. Bolshevica, cioè è un disastro, zio. Rivoluzione Bolshevica? What? Un casino. A quanto siamo di minuti, Luke? Otto minuti, dobbiamo andare un pochino più lenti, ma leggermente. Cioè, no, perché è imbarazzante sta Lega, Luke, è imbarazzante. Abbastanza. Beh, ma io spero che ci capiterà qualcosa di... Non troppo devastante. È quasi... No, è tipo... È demoralizzante, capito, ragazzi? Cioè, nel senso... Sì, sì. Perché noi ci siamo allenati con miti che dobbiamo prendere a cazzotti tutti questi leggendari, questi... Arrivì qui e ti trovi... E ti trovi... Togepi, combi... Doduo, cioè... Ok, io sono a Luciano, Luke. Io sono a Luciano, cioè, non lo devo fare. No, io sono ancora a Vulcano, sì, che fanno abbastanza rima, però... Allora, vediamo se... Lilianna, per favore, mi piace come stiano tutti di sesso confuso, sì. Oddio, no, Joel, per te lo danza su Gastron. Aia. Eh, fa male. No, l'ha detto, l'ha detto incredibilmente. Il clima è pazzesco. Oh, Luke, i livelli sono belli bassi ancora, però, eh. Cioè, il più scarso suo è al 59, quindi si può fare. Crobat, ecco, questo Crobat non mi piace. Zio, cosa fa Magivelo? Mi piace, Crobat è al 59. Luca, cosa fa Magivelo? Magivelo... Deve essere qualche effetto di... Non mi ricordo se è brutti i corpi, adesso non mi ricordo l'effetto preciso della mossa. Oh, non è un problema perché dovrei aver buttato giù l'iron, non mi fa niente, no? Ok, perfetto, il corfish. No, beh, sicuramente già non è specchio vero, quindi puoi andare tranquillo, perché non è specchio vero. Sì, ho corfish, ma io... Ma no! Ha appena usato specchio velo! Aiuto! Ma c'è... No, io sto zitto, non dico più niente. Aiuto! Cosa? Ma te la non dimi che te la shottata? No, 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 perché no, ma... No, ma solo perché ho deciso di andare di vita al tiro e non di un'altra mossa. Tu l'ho paralizzato con tuono, Godo. No, 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 no. Autodistruzione di Crobat. Nooo. Sempre su Gastron. Nooo. Esplosione di Corfish. Nooo. Oddio. Un PS. DRAGS. Un PS. Un PS. Luke, Luke. 5 PS di DRAGS dopo autodistruzione di Corfish. Giù, sto risultando troppo. Un PS è rimasto. Un PS. Cos'è successo? Non lo so, però questo è un'idea di ricordare. Incredibile. Doppia esplosione, doppia sopravvivenza. Oh, cazzo! Mi stavo ribaltando sulla sedia, non c'è... Sei rotta la sedia. Giù, giù, giù. Ero a full vita, mi ha lasciato con un PS. Anche a me! Uno. A me con 5! Pazzesco, raga, pazzesco. Cos'è successo? E' successo quando... No, 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 ok. Stavo morendo di nuovo. Comunque sia, sono fatta. Quasi. Incredibile. E' successo qualcosa, ragazzi, è successo qualcosa di assurdo. No, laxerei con insonnia, non posso beccarmelo davvero. Oddio. Caterpick contro Eaterland, perfetto. Luke, è successo qualcosa di incredibile, Luke. Di incredibile. Pazzesco. Questa scena, ragazzi, me la ricordrò a lungo. Questa è storica. A lungo. Questa è incredibile. Questa è veramente... Incredibile. No, veramente, Luke. Doppia esplosione. Doppia esplosione. Doppia sopravvivenza. Strampa danza. Incredibile, ragazzi. Muori. Non ho parole. Ma il fatto è come sotto Gastron, con un PS. Allora, Luke, io ho trovato l'ultimo Pokémon che è problematico. Io devo iniziare Luciano, fai un poteggio. Ci viene devastato Vulcano. Sto in... Pazzesco è stato Vulcano. Allora, aspetta. Vai, Luciano. Devo... Io devo instaurare una bella strategia con Drags, però. Una bella... Attenzione, della tattica. Stacey... Stacey su per 4. Drags, vai tu. Boato! Vediamo. Boato. Cioè, che ti ha fatto? Io avevo mandato Drags, ma mi ha levato Drags. Ok. Vabbè, guardate che non ti sciotti con qualcun altro. Onda Shock. È venuto in coda. Muori. Marte... Uh, potente sui Bissauro intanto, eh. Madonna, quanto regge Storax. Quanto regge Storax, re Luke. Quanto regge. Mi ha mandato Sabline. Non è una bella cosa in questa generazione. Ok, Luke potrei averla portata a casa, ragazzi. Potrei averla portata a casa. Eh, io non tanto. Sabline mi ha mandato. Non è una bella cosa. Ah, vita 1! Cavolo, Sabline è 66. Unio scarica. Zio, 66. È tantissimo. No, Gio. Eh. Raggio scorso su Geridos. Mi sa che tu sarai messi in pericolo. No, Luke, no, no. No, dai, buone statistiche. Raggio scossa, Geridos è morto, signora. No. Niente, Salamence non ce l'ha fatta. Ragazzi, la debolezza per 4 di Geridos è troppo, è troppo sul tipo elettro. Poi mi manda in campo Sabline. Che l'ho detto che Sabline è ostico, infatti. Ragazzi, mi dispiace tantissimo. Peccato perché anche Salamence di Gio era potentissimo. Niente. Cos'è successo? Cioè, abbiamo resistito due esplosioni, ma non una raggio scossa. Non ho parole, signora. Io Luke sto andando, sto avendo delle difficoltà. Cioè, questa Laxery è davvero forte perché, cazzo, è forte. Non c'è, Giga Assorbimento su Gas, non zio, basta. Di, beh, di Coffee, quindi potrei, potrei reggirla su Coffee. No, che ho retto, metà vita, però cavolo, Giga Assorbimento. Oh. Sottato. Io dovrei aver vinto, Luke. Siamo a 25 morti. Siamo a 25 morti. Esatto, esatto. Un tributo al rocetto, pazzesco. No, io dovrei aver vinto, bene che non è un altro. Cazzo, ne ha un altro. Cazzo, ne ha un altro. A me due. A me uno, a me uno. Livello 63, questo. Più alto 66, quindi Camilla sarà a 70. Toccherà a 70, Camilla, per forza. Mamma mia. Drax non è più confuso, grande. Oh, Luke. Drax è il più scarso che ho, ma è stato un eroe in quest'ultima battaglia. Eroico. Non ci credo, Gio. Ok, ultimo anche da me, Weasel. Weasel. Dai, ce la possiamo fare, Gio, l'ultimo. Io forse sto mandando giù l'ultimo. Ce la famo. Ce la famo, ultimo. Gioco di ruolo, no? No, un PS, davvero? Muori. Cazzo. Tuono, tuono. E questa è la vendetta. Buono, ho vinto. Ho vinto anch'io. Ho vinto anch'io. Do più vittoria, ragazzi. Nel stesso momento, oltretutto. Salamence. Pazzesco. Che parte è stata questa? Che parte è stata? No, ma le due esplosioni sono state allucinanti, Luke. Io mi fermo qua, Gio, non mi muovo più, sinceramente. Direi che... Cavolo, ma Salamence. Pazzesco. Salamence, Luke, sono veramente avvilito, ti giuro. Mi piace anche un sacco, un cammello, più che altro. Raga, Vladimir ha combattuto con onore. Arriverà la Lega Pokémon, morto, ma arriverà la Sala 2. D'onore, ve lo prometto. Detto ciò, Luke, quanto siamo di minuti? 15, 15, 15 minuti. Ragazzi, un quarto d'ora, un quarto d'ora. Episodio un po' più corto perché è pieno di emozioni, parliamone. Prossimo con Camilla. Io spero che questo video vi sia piaciuto, ragazzi. Se è così, vi invito ovviamente a lasciare un bel mi piace, un commento, un iscrizione al canale. Se ovviamente non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social, ovviamente, di entrambi, campanelle, di tutti e due i canali. Mi raccomando, passate dal suo canale che il prossimo episodio sarà sul canale del Rochat. Passate dai suoi social, premete la sua campanella, iscrivetevi al suo canale, lasciate un dislike ad ogni suo video del 2015. E ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video. Bye bye.